E invece questo qui flow lavora sulla memoria dell'acqua, sulle frequenze, su tutto ciò che è liquido nel nostro corpo. Noi siamo fatti più del 70% di acqua e il nostro pianeta è fatto più del 70% di acqua. Noi lo dimentichiamo spesso pensando di essere i proprietari assoluti, ma in realtà siamo parte di un sistema più grande, no? E anche questa similitudine con il nostro pianeta ci ricorda questo. L'acqua è stato dimostrato che ha una memoria, può essere influenzata dalle frequenze, dai suoni, dalle vibrazioni, dalle parole e anche dalle intenzioni e dei pensieri. E questo brano, anche se sarà molto diverso ovviamente dal brano uscito, insomma, perché ha dei suoni strani, un po' di sintetizzatori, suoni particolari, cercherò di comunicare quell'atmosfera per voi. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. E questo brano uscito, anche se sarà molto interessante. 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 anche se sarà molto interessante. anche se sarà molto interessante. uscito, anche se sarà molto interessante. anche se sarà molto interessante. anche se sarà molto interessante.